in realtà leon cafzezi tradisce la tensione al fantastico predentemente sulla scarta dei ricordi di un reduce all'interno di un'ireale humanita del resto nella costruzione stessa dei personaggi e degli ambienti c'è una sintesi dei temi fondamentali della tradizione novelistica e della cultura internazionale qui elabora motivi di linguaggio più sofisticati di un eclettismo premeditato tra espressionistico e avanguardista volevo dare un giudizio globale sulle literatura albanese e molto sviluppata questi ultimi anni sperimentali e non esilarante concentrato di humor surrealista di fantascienza che dimostra qualità e buon gusto passaporte per fer e un capolavoro un miracolo di gracia comico e commovente e con quell'autore protagonista pieno di tristezza che si riporta addosso tante cose nella nostra infanzia le più vere le più segrete e importanti pieni di malinconia e di una densita indimenticabili di una dialetica del vedere e del non vedere della chiusura e dell'apertura narrativa che portano il discorso fantastico a un gioco necessariamente virtuosistico